2013 la seguente lettera. Onorevole Presidente, informo la signoria vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 10,3 della legge 23 agosto 1988 numero 400 delle deleghe di funzione conferite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Di Castero, onorevole dottor Luigi Casero e onorevole dottor Stefano Fassina. Firmato Enrico Letta. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato in data 4 giugno 2013 la seguente lettera. Onorevole Presidente, informo la signoria vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 10,3 della legge 23 agosto 1988 numero 400 delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro dello Sviluppo Economico, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Di Castero del dottor Carlo Calenda e del professor Antonio Catricalà. Firmato Enrico Letta. Hanno chiesto la parola a fine seduta sull'ordine dei lavori. Il primo iscritto a parlare è il deputato Franco Bordo, ne ha facoltà. Due minuti. Sì, signora Presidente, cari colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla grave situazione in cui sta versando la nostra agricoltura. Oggi nella giornata mondiale decretata dalle Nazioni Unite per l'ambiente, ovviamente giornata decretata appunto per ricordare, per celebrare, per attivare politiche attive contro il surriscaldamento del pianeta, io vedo una mancanza di intervento da parte del Governo rispetto a questo grave problema. Abbiamo regioni del nord Italia che sono piegati dal fragello del maltempo e in modo particolare le aziende agricole. Mi scusi Onorevole Bordo, se i colleghi che escono legittimamente facessero anche un po' silenzio sarebbe meglio. Prego. Tutto il settore agricolo, dai seminativi ai trapianti, all'ortofrutto, al foraggio, non è in questo momento messo in condizioni appunto di garantire al nostro Paese quella produzione che è stata garantita negli anni passati. Io chiedo con forza che il Governo intervenga al più presto a sostenere i nostri agricoltori un comparto che prevede un impiego di circa un milione di dipendenti ufficiali, più tutto il nero indotto purtroppo in questo settore e chiedo che venga appunto attivato il Fondo di Solidarietà Nazionale nella misura necessaria per dare risposte alle aspettative e bisogni delle imprese agricole danneggiate. Chiedo anche che il Governo si attivi urgentemente per richiedere la misura 126 del programma di sviluppo rurale all'Unione Europea che riguarda nello specifico ripristino del potenziale agricolo danneggiato dalle calamità naturali. Tutte le Regioni sono coinvolte. Grazie. Ha terminato il suo tempo onorevole. Grazie. È scritto a parlare la deputata Lara Ricciatti. Ricciatti, scusate. Ne ha facoltà. Sempre due minuti. Questo pomeriggio gli operai Indesit hanno marciato verso il quartier generale di Fabriano, Ancona, nelle Marche. I sindacati hanno già dichiarato lo stato di agitazione. Quattro ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Questo perché la Indesit ha comunicato ieri ed oggi un piano di riorganizzazione.